Buonasera. Buonasera. Non è una monarchia, la carta è stata scritta nel 1947, dunque anno cruciale, appena finita la guerra, né un'altra forma di Stato di tipo autoritario. Democratica, aggettivo che venne introdotto su proposta del giovane costituente cattolico Amintore Fanfani, il quale richiamò, proponendola, proponendo quell'aggettivo, richiamò i principi di libertà e uguaglianza senza i quali non c'è democrazia. Non devo dire certo a che cosa rimandi la libertà e l'uguaglianza. E infine il lavoro. Il lavoro cambia, trasforma una repubblica liberale, diciamo, in una repubblica sociale, perché è la repubblica nella quale i cittadini si distinguono e acquisiscono la loro fisionomia non in base a ciò che hanno, la proprietà, ma in base a ciò che fanno, cioè il lavoro. Otto parole, dunque, che racchiudono in germe lo spirito della Carta Costituzionale. Di questo parleremo stasera. Abbiamo qui, buonasera, professore, il professore Luciano Canfora, contenti di averlo, eminente filologo, ma anche con un'accentuata propensione storica. Dunque, nulla di meglio per commentare insieme questa nostra Carta Costituzionale, la quale, ricordo, entrò in vigore il primo gennaio del 1948 e venne redatta, dopo essere stata preparata, in dieci mesi, tra il marzo e il dicembre del 1947. Venne definita, come lei sa benissimo, professore, il miracolo dei nemici, perché contribuirono a redigerla e a scriverla liberali, cattolici, socialcomunisti, cioè l'Italia che aveva partecipato alla resistenza e arrivata alla pace. Ora io vorrei farle vedere, far vedere a chi ci ascolta, far ascoltare soprattutto, un documento, il documento, nel quale il presidente di quella assemblea, che era il comunista Umberto Terracini, proclamò il risultato delle votazioni. Noi ascolteremo la voce direttamente accompagnata da queste immagini. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto. Presenti e votanti 515, maggioranza 258, voti favorevoli 453, voti contrari 62. L'assemblea approva. Toccanti le grida viva la Repubblica. Quella è una frase, caro professore, che in Francia è abituale. Non c'è discorso del presidente che non si chiuda vive la Francia, vive la Repubblica. Noi siamo un po' più resti. Beh, ma loro di Repubblica ne hanno avute tre, quattro, cinque, no? Quella attuale, la quinta. Hanno incominciato presto, 1792. Noi abbiamo cominciato molto dopo. E bisogna dire che tra le forze intellettuali che hanno dato vita a questo straordinario momento c'era anche il Partito d'Azione. Non va dimenticato. La cultura azionista è stata un alimento, insieme a quella cattolica, comunista, eccetera. Ha ragione. È stata una mia omissione colpevole. Non colpevole, ma certamente... No, no, colpevole. Perché tra l'altro il Partito d'Azione ci è caro, anche se non ha... Ha aggiunto quel tasso di liberar socialismo, penso a Gobetti... Silvio Trentin. A Silvio Trentin, che le due grandi chiese, le cattolici e comunisti, non avevano, diciamo la verità. Ed erano molto avversati dal filosofo liberale Croce, che diceva impossibile mettere insieme liberal socialismo, no? L'irco cervo, diceva. L'irco cervo. E' un irco cervo produttivo. Dunque, io vorrei, professor Canfora, che noi ripassassimo insieme il concetto stesso di Costituzione. Cioè, di che cosa sia una Costituzione, a che cosa serva. Perché non è sempre chiaro a tutti a che cosa serva la carta fondamentale. E vorrei cominciare, dato che lei è un eminente filologo, vorrei cominciare dalla Grecia. Dove noi, del resto quasi tutto comincia da lì, no? Lei mi insegna. Lei è d'accordo? Loro dicevano, comincia prima, in Egitto, no? Solone andò in Egitto e gli dissero, voi i greci siete dei bambini. Però, insomma, per noi sono i greci. Ecco. Dunque, c'è Tucidite, attribuisce a Pericle, lo statista del V secolo a.C., questa frase. La nostra Costituzione è chiamata democratica perché il potere è nelle mani non di una minoranza, ma del popolo intero. Condivide, dica la verità. Il popolo intero mi pare una forzatura rispetto al testo greco che parla di maggioranza, no? Pletos. Io però sarei un po' più prudente nel dare una patente di democrazia a questo testo, perché lì lui dice il nome è democrazia, però ci sono tante garanzie, in tribunale in particolare. Molto significativa questa limitazione. Comincerei prima di lui. Cioè? Si dimentica Erodoto, che viene trattato un po' dall'alto in basso. Erodoto mette in scena un dibattito costituzionale addirittura alla corte persiana. Il sostenitore della democrazia, si chiamava Otanes, era un nobile, dice la cosa più bella è la massa popolare che governa. Pletos Arcon. Quindi, se vogliamo, il germe del pensiero democratico nel mondo che deriva dalla Grecia parte da lì, più che da Pericle. Io francamente non sapevo una parola di quello che lei ha detto. Del resto, ogni volta che scopro l'infinita ignoranza, mi avvilisco un po'. Faccio comunque per superare questo momento. E' entusiasmante scoprire le lacune. In questo momento di sbandamento, faccio un salto e arrivo al XIII secolo, a quella che viene correntemente giudicata la prima, tra virgolette, costituzione, e cioè la magna carta famosa libertato delle libertà, 1215 più o meno, inglese. Lì dove siamo? Beh, nella lotta dei baroni, dei nobili contro il sovrano. Ecco. Quindi è perciò libertà tumma, delle libertà, che sono anche i privilegi del ceto nobiliare. Comunque, un passo avanti, non dimentichiamo che anche per la monarchia francese, con altre sue dinamiche, si è verificato questo contrasto tra l'elite nobiliare e il sovrano. Cioè... La vera svolta viene dopo. La vera svolta viene dopo. Però quella magna carta, così spesso richiamata, è la prima volta in cui, almeno in questo ambito della nostra civiltà europea occidentale, la prima volta in cui i poteri del re vengono limitati. È vero? Certo. Beh, questo tanto di cappello al popolo inglese, perché... Nessuno lo nega, anzi direi che nella storia della libertà, con buona pace del filosofo liberale Croce, gli diceva che la libertà non ha storia perché è eterna, ecco, nella storia della libertà, quello è un passaggio fondamentale. Croce diceva che la storia è storia della libertà, più o meno, mi sbaglio? E nel senso che la libertà è l'alfa e l'omega di tutta la storia umana. Ha dinanzi a sé l'eterno, scrisse una volta nella storia d'Europa. Gli scappò. L'anno dopo Hitler andò al potere. Capisco che, insomma, lei riconosce la grandezza di Croce e i suoi limiti. Ma ogni personaggio storico significativo ha dei limiti. Dunque, parlavamo dell'Inghilterra del XIII secolo, magna carta, facciamo un bel salto cospicuo, anche perché abbiamo molte cose da dire, arriviamo al famoso 4 luglio 1776, ancora oggi negli Stati Uniti, ricordato solennemente, c'è addirittura un film che diceva, il titolo era Born on the Fourth July, nato il 4 luglio, dove viene, c'è la dichiarazione di indipendenza, nella quale, eccola qua, la nostra regista Sabrina, tempestivamente ce la fa vedere, dove nelle prime righe, che qui non si leggono, le leggo io, noi riteniamo evidenti per se stesse le seguenti verità, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi vi sono la vita, la libertà, la ricerca della felicità. Roba complessa, eh? La vita, la libertà, la ricerca. The pursuit of happiness, dice quello là. C'è un tocco di ingenuità in questa idea della felicità infilata nel testo costituzionale, però si può comprendere la matrice religiosa della guerra di indipendenza americana. Ci potrebbe aggiungere che loro avevano un rimosso tremendo, cioè la schiavitù, che era il basamento sociale, che comportò, per esempio, l'emendamento, il secondo emendamento. Scusi, tanto è vero che poi ci faranno una guerra intera, una guerra civile. Nel quale si autorizzano o sollecitano anche i cittadini ad armarsi e una delle ragioni per cui viene suggerito questo è per poter sparare contro gli schiavi se si ribellano. Va bene, la macchia è la schiavitù. Per questo la rivoluzione francese è di gran lunga più avanti rispetto a questa formulazione e la Costituzione francese, che comincia con l'89 e si formalizza con varie tappe e con varie stesure, comportò l'abrogazione dell'istituto schiavile nelle colonie francesi. E questa è la grande differenza. Senta, professore, ma il secondo emendamento della Costituzione americana che autorizza il possesso delle armi ce lo portiamo a presso anche oggi. Purtroppo sì, nel senso che il paese dove si spara più di tutto che in un altro paese al mondo. Va bene. Mi viene in mente che il timore che gli schiavi siano pericolosi ce l'avevano già gli antichi romani, per cui in una verrina di Cicerone si legge una norma dopo la rivolta di Spartaco schiacciata, né cum telus servus estu. Nessuno schiavo deve avere un telum in mano. Cioè un'arma. Un'arma atta a offendere. Lei ha appena citato la Costituzione francese. Io vorrei che ci fermassimo un attimo su quella del 1993, la quale dice all'articolo 1 lo scopo della società è, vede che torna, la felicità comune. Il governo ha istituito per dare all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili. Qui sento russo o mi sbaglio? Certamente sì, direi che questa formulazione è il prodotto di una intensa attività di carattere teorico e contemporaneamente politico che ha l'origine nella dichiarazione dei diritti dell'uomo 1789 che diventa il preambolo della Costituzione del 91 che dice che gli uomini nascono e restano uguali. E la parola più impegnativa del mondo, restano uguali, vuol dire che questa uguaglianza originaria, naturale, va serbata e difesa anche nel seguito dell'esistenza dei singoli individui. È un impegno. Quindi il pensiero liberale secondo cui si parte tutti uguali e poi vinca il più bravo è limitato fortemente dalla parola restano uguali. Beh, è limitato fino all'utopia, direi. Perché poi in realtà... Per la ragione per cui nel preambolo della Costituzione del 93 che qui è stata ricordata, c'è scritto che la libertà è la facoltà di ciascuno di esplicare le proprie capacità, essa ha la sua regola nella giustizia. Dove la parola regola è perfetta, piacque anche a Ugo Foscolo fra l'altro, che l'ha parafrasato in un suo discorso, che non vuol dire un'eguaglianza matematica indistruttibile, vuol dire che la libertà va regolata con la giustizia. E questo è il nucleo di un grande pensiero politico, giustizia e libertà. Mi strappa le parole di bocca, c'ero arrivato anch'io. Giustizia e libertà, un movimento politico luminoso che noi abbiamo avuto, noi nella nostra storia recente, e che si è un po' perso per strada. Ma ha fecondato le altre forze politiche. Sì. Questa è la mia ottimistica convinzione. Sì, le ha fecondate ed è scomparso. Dopo la fecondazione si è dissolto, come succede anche in varie specie animali, che dopo la fecondazione il fecondatore se ne va. Si dissolve ma ha lasciato traccia. Sì, lascia traccia. Vado ancora avanti in questa rassegna che spero interessi chi ci sta ascoltando. E arrivo all'effimera drammatica Repubblica di Weimar del XIX con il riconoscimento dei diritti sociali dove il capo dello Stato viene eletto direttamente dai cittadini. I diritti sociali entrano in una carta costituzionale l'anno prima, potremmo dire, del XIX, cioè nel XVIII, nella prima Costituzione sovietica. Sapevo che l'avrebbe citata perché lei la Costituzione sovietica la cita spesso. Ma ce ne sono varie. Quella che fece molta impressione anche a Silvio Trentin che la commentò in un saggio memorabile è quella del XIX. Ma la prima è la più, se vogliamo, spontanea, rivoluzionaria, anche ingenua, in alcuni tratti. Per esempio quello in cui si cita l'Apostolo Paolo esplicitamente per la frase chi non lavora non mangia. È vero. Quindi questo brandello sublime del testo del Nuovo Testamento entra nella Costituzione sovietica del XVIII e lì si affermano i diritti sociali che sono poi la grande forza delle Costituzioni novecentesche. Sì, quella frase Paolo la scrive in una lettera che non mi ricordo quale, ma insomma sta in una delle sue epistole ed è una frase che quando la leggi la prima volta salti sulla sedia perché dici ma santo cielo. è il principio del comunismo. Ed era una mente politica quell'uomo. Alcuni giustamente dicono il vero fondatore del cristianesimo. Lo dice Nietzsche e nella mia miseria intellettuale ho osato dirlo anch'io. Arriviamo ad una pagina drammatica nostra, della Germania, della Repubblica di Weimar che come sappiamo poi muore nel fascismo, nel nazismo. e arriviamo appunto al fascismo. Ora lei, professore, approfitto per ricordare che è appena uscito questo suo libretto del fascismo non è mai morto, editore Dedalo. Ora mi permetto di farle, con tutto il rispetto che le devo, un'osservazione. È possibile che anche lei cada nella trappola di ricordare il fascismo, l'antifascismo. Noi oggi abbiamo ben altre preoccupazioni. Il fascismo, quel fascismo, non tornerà mai più. Tornerà forse una parvenza di Stato autoritario. Ma vale la pena di andare a rievocare questo tema? Beh, il fascismo è un virus che si modifica. Notò un nostro studioso di storia che è anche molto attivo in televisione che si chiama Paolo Mieli. È un virus, lo disse in una trasmissione che si chiamava Atlantide nel 2020, era il mese di aprile. Del compianto Purgatori. Del bravissimo Purgatori. Ed era un'immagine felicissima quella del virus che si trasforma. Un poeta tedesco che si amava Bertolt Brecht è sull'Einamerica. Dramaturgo. 1941, scrive un fascismo americano sarebbe democratico, cioè avrebbe delle parvenze democratiche, ma la sostanza, il succo, il suprematismo, il razzismo, il rifiuto dell'altro che è il nucleo forte da cui il fascismo ha poi prodotto leggi razziali, imperialismo, aggressività, nazionalismo esasperato. America first. È la forma, diciamo, anglofona dello stesso concetto. E credo che sia un problema più che lancinante. Ascolti, sì, capisco, accolgo la sua osservazione e le faccio una domanda brutale, non so se è il caso, ma la faccio comunque. Secondo lei in Ungheria oggi c'è il fascismo? È un isomorfosi del fascismo, potremmo dire, come direbbero gli studiosi del terreno. Isomorfosi vuol dire che ha delle caratteristiche di fondo che sono ben evidenti con una veste esteriore di carattere, appunto, elettoral-democratico. Cioè, è stata coniata una parola, la democratura, che è la crasi tra democrazia e dittatura. Pam! Lei la condivide? Beh, ma è una parola greca. Non è molto noto questo, lo dico con rammarico, perché si trova in un frammento dello storico greco Dione Cassio, di epoca severiana, che dice, è un frammento, che Silla, Silla, il dittatore Silla, che fa quello che sappiamo, le proscrizioni, democrator. Democrator è una parola che in italiano diventa democratura. Lo dobbiamo dire ai nostri giornalisti, così arricchiscono l'utilizzo di questo termine, usato talvolta un po' a sproposito. Le dico la verità, mi diverte moltissimo la disinvoltura, lo sprezzo, non il disprezzo, la sprezzatura con la quale lei butta sul tavolo queste scintille. Finisce la guerra. Arriviamo al 1948, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che all'articolo 1 dice, riprende il concetto, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali, indignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza, e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Faccio presente che in questa frase c'è la parola liberi, c'è la parola uguali e c'è la parola fratellanza, cioè siamo sempre là da dove tutto è cominciato. Noi siamo ancora alle prese con i problemi posti dalla rivoluzione francese. Due secoli abbondanti, noi siamo alle prese con quel problema che è un problema entusiasmante, quello della convivenza umana alla luce di queste tre parole. Le guerre in atto però fanno pensare che queste tre parole siano molto sofferenti. Vorrei arrivare con lei, ci avviciniamo passo passo verso i nostri giorni, alla difficile ruolo dell'Italia dopo la guerra. Ci fu un famoso discorso di De Gasperi che andò a chiedere praticamente un po' di soldi e un po' di grano per l'Italia. Tale era lo stato nella quale il paese era stato ridotto dalla guerra criminale voluta da Mussolini e dalla disfatta e poi ci fu la ripresa che noi ascoltiamo dalle parole di Calamandrei e qui veniamo finalmente alla nostra Costituzione dalla quale avevamo cominciato. In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, sono tutti sfociati qui, questi articoli. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Questo è un testamento, un testamento di 100.000 morti. se voi volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove cadero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccani. dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione. Parole alte perché veda professore molto qui ha parlato della resistenza che tra l'altro poi si potrebbe dire quanti problemi ha creato nella convivenza questa ascendenza però parliamo invece degli aspetti molto positivi. La resistenza viene oggi spesso trattata con vabbè ma insomma si trattò di quattro fucilate da parte di alcuni che renitenti alla leva si erano dati alle scorribande di tipo partigiano intrisa di violenza poi il sangue dei vinti come scrisse il compianto Giampaolo Panza eccetera eccetera lei non condivide questo svilimento del movimento di resistenza immagino fa un po' senso come moto di pensiero se possiamo usare la parola pensiero rispetto a tali formulazioni mi viene in mente per esempio che un ateniese combattivo che si chiamava Trasibulo con 70 uomini 70 di numero mise in crisi creando un movimento partigiano nell'attica la tirannide dei 30 tiranni protetti dall'esercito spartano quindi una minoranza consapevole e capace di fare storia nel senso più alto e potremmo anche metterci il gruppo di uomini che con Fidel mise in crisi la dittatura di Batista a Cuba va bene quindi dire erano pochi da ultimo qualche semistudioso dice era una minoranza ma le minoranze attive consapevoli fanno la storia va bene è ridicolo questo modo di parlare della resistenza e c'è poi un altro aspetto la resistenza è guidata da forze politiche che stanno maturando anche il nuovo ordinamento dell'Italia c'è un pensiero costituzionale della resistenza quindi gli ignoranti tacciano ah così apoditi colpo di accetta io mi permetto di aggiungere un'altra cosa quel movimento di resistenza permise all'Italia del dopoguerra di scrivere la sua costituzione della quale stiamo parlando in assoluta libertà con un'assemblea eletta democraticamente dagli italiani al contrario per esempio della Germania dove invece la costituzione del 49 del 49 è stata scritta sotto il controllo attento degli americani sbaglio? no non sbaglio la Germania era in regime di occupazione e la Repubblica federale nasce nel fine agosto settembre 1949 mettendo insieme le tre zone di occupazione francese inglese e americana il mese dopo nasce la Repubblica democratica tedesca che è zona di occupazione sovietica l'Italia del 46 47 il primo gennaio 48 la costituzione entra in funzione non è un paese sotto occupazione ha subito una situazione di controllo molto forte durante il cosiddetto regno del sud durante la lunghissima campagna d'Italia però le forze politiche sono state capaci per merito del CLN di ridare dignità comitato di liberazione nazionale il cui uomo più rappresentativo ferruccio parri fu presidente del consiglio dal giugno al dicembre del 1945 quindi all'indomani della fine della guerra in un'Italia distrutta un uomo di specchiata virtù e intelligenza quindi tutto questo ha dato al nostro paese una situazione di indipendenza intellettuale nel momento più difficile della sua storia e questa è la differenza tuttavia non riuscimmo ad andare al di là dopo l'8 settembre dello status di cobelligeranti cioè gli alleati anglo-americani eccetera compresi i francesi che si sono abilmente messi tra i vincitori grazie a De Gaulle nonostante fossero stati sconfitti lo status di cobelligeranti ci limitò fortemente e ci fu un responsabile di questo che il re ah il re il re il quale con la continuità fisica della sua persona metteva continuamente il nostro paese in una posizione difficile e subalterna rispetto agli eserciti anglo-americani che attraversavano la penisola continuità fisica perché lui era stato il complice di Mussolini l'aveva chiamato a fare il primo ministro il 28 ottobre il 22 aveva avallato la cacciata del Parlamento dei deputati a ventinisti promulgato le leggi razziali aveva promulgato le leggi razziali ma prima ancora ha approvato le leggi eccezionali del novembre 26 che scioglievano i partiti e poi la dichiarazione di guerra dopo le leggi del 38 quindi le ha fatte tutte Benedetto Croce lo citiamo ancora una volta in un memorabile discorso in senso altamente positivo finalmente dinanzi ai rappresentanti dei comitati di liberazione radunati a Bari esattamente 80 anni fa nel gennaio del 44 ebbe a dire in un discorso ripeto memorabile finché c'è la persona dell'attuale re noi sentiamo che il fascismo ci è attaccato addosso espressione che cito in modo verbatim come si dice cioè letterale come dite voi perché è una formulazione epocale rispetto al valore negativo dell'ostinazione con cui il sovrano ha voluto mantenere il suo ruolo di capo dello Stato e lo ha mollato soltanto nel maggio del 46 ha abdicato in favore del figlio per influenzare le votazioni del referendum che si svolgeva dopo un mese dove il figlio fu chiamato il re di maggio si tutto torna e le votazioni furono il 2 giugno lo abbiamo già ricordato brevemente prima 2 giugno del 46 dove gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica ed elessero l'assemblea costituente e quella volta se ricordo bene mi corregga se sbaglio come si dice normalmente votarono per la prima volta anche le donne è così? esatto fu un trionfo devo dire del principio del suffragio universale che era stato l'architrave della lotta democratica per tutto il secolo XIX e XX ma si parlava di suffragio universale si sottintendeva maschile soltanto diciamo che il primo paese fu la Finlandia nel 1920 e nel medesimo istante lei sorriderà l'unione sovietica sì un po' un po' rido un po' rido perché lei sa con quanto rispetto consideri le sue parole e i suoi libri a cominciare da quello che ho presentato che qui torno a mostrare nonostante quello che ci siamo detti è prezioso opuscolo di poche pagine ma di denso contenuto sorrido perché considero questo suo continuo richiamo perfino di Stalin un po' un'esagerazione mi permetta di non ne abbiamo parlato ma in un'altra occasione potremmo farlo dei personaggi storici diceva Voltersi deve dire solo la verità noi abbiamo fatto un esperimento grazie all'autrice di questo programma Carla Mellidi abbiamo fatto leggere a dei giovani studenti alcuni articoli della Costituzione ora non abbiamo il tempo di farli vedere tutti però un articolo che è il numero 3 fondamentale vorrei che lei lo commentasse ascoltiamolo articolo 3 tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso di razza di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il piano sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese testo memorabile che Calamandrei grande costituzionalista che abbiamo prima ascoltato definì eversivo ed era un termine che adoperava in senso positivo ovviamente perché perché lui svolgeva molto efficacemente il concetto la nostra costituzione ha una peculiarità non soltanto descrive un ordinamento ma propugna una modifica dell'ordine sociale esistente in senso effettivamente democratico in quell'articolo c'è innanzitutto il chiarimento la razza non è dirimente dal punto di vista dell'uguaglianza domanda lei è favorevole al mantenimento della parola razza nell'articolo 3 perché sa che c'è un dibattito non su questo ma è necessario che ci sia perché risponde all'obrobrio delle leggi raziali quindi è evidente che deve essere adoperata quella parola per spiegare quanto sia aberrante invocare la razza per discriminare i cittadini professore siccome il tempo stringe vorrei farle vedere una tabella nella quale sono elencati i nuovi diritti e la risposta percentuale da sondaggio quindi da prendere così la risposta dei cittadini all'accoglimento di questi diritti la tabella è questa eutanasia 74% i tre quarti adozione singolo 70% matrimonio omosessuale 65% adozione coppia omosessuale 54% è una cosa sconvolgente perché nessuna di queste cose è regolata a parte l'unione civile che un po' adombra un matrimonio la marcia dei diritti è il filo conduttore della nostra vicenda e direi della vicenda umana tutta quanta anche l'idea che lo schiavo è uguale come essere umano all'uomo libero si è fatta strada lentamente questo lo dice anche Seneca lo dicevano anche prima di lui antifonte sofista vari secoli prima quindi non possiamo non prendere atto del fatto che le grandi idee si fanno strada a fatica la marcia dei diritti e il bello di questa tabella è che ci fa capire che la costituzione è un libro aperto nel quale saranno recepiti ulteriormente nuovi diritti così come era un libro aperto l'articolo 3 quando parlava di eguaglianza effettiva dei cittadini effettiva non quella soltanto formalmente dichiarata ma quella che riviene nasce discende dai rapporti sociali modificati la ringrazio professore di questa sua posso dire quasi una lezione sulla costituzione ora io interrompo brevemente per doveri pubblicitari e dopo su quella poltrona siederà un'altra insignia costituzionalista la professoressa Marta Cartabia grazie e spero alla prossima lei ha aperto uno squarcio su Stalin che potrebbe fecondo fecondo grazie a sottocerla arrivederla eccoci di ritorno in questo intervallo ci ha raggiunto la professoressa Marta Cartabia grazie di essere qua le dico la verità siamo particolarmente onorati dalla sua presenza vorrei ricordare che ci ascolta brevissimamente che lei è stata la prima donna presidente della corte costituzionale cioè oltre che ministro della giustizia nel governo Draghi se non sbaglio quindi insomma roba seria grazie a voi dell'invito professoressa io in apertura di serata ho letto il primo comma dell'articolo 1 ma vale la pena di tornarci perché lì c'è un secondo comma che è altrettanto e forse ancora più importante noi l'abbiamo fatto leggere da questo articolo 1 dai ragazzi dell'università di Roma articolo 1 l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione ecco allora il primo comma abbiamo detto repubblica democratica lavoro le tre parole chiave secondo comma secondo comma ogni parola come in tutto il testo costituzionale meriterebbe un commento ma vorrei soffermarmi sulla scelta del costituente di sottolineare che la sovranità appartiene al popolo quindi siamo in una democrazia ma che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione la nostra democrazia è una democrazia che va qualificata come democrazia costituzionale nel senso che è la costituzione stessa che nello stabilire quali sono i poteri quali sono le istituzioni chi fa che cosa ne stabilisce anche le modalità di esercizio del potere e i limiti la costituzione e dopo tutto il costituzionalismo è una tecnica anche di limitazione del potere nasce così sì questo è giusto perché c'è stato in qualche periodo recente della nostra storia recente in cui si citava l'articolo 1 mettendo il punto fermo la sovranità appartiene al popolo punto questo è un errore marchiano è un errore perché appunto cosa significa che la sovranità appartiene al popolo deve potersi esprimere la nostra è una democrazia essenzialmente rappresentativa quindi c'è le forme dell'espressione della sovranità popolare sono indicate nella costituzione stessa la scelta dei rappresentanti la centralità del parlamento sul quale poi si innesta il rapporto di fiducia con il governo il referendum è la forma di democrazia diretta che però è solo un correttivo nel nostro sistema si può esercitare per abrogare determinate leggi e poi c'è la limitazione del potere cioè ci sono alcuni valori alcuni principi che sono stati affidati al testo costituzionale che è una legge superiore rispetto alle altre che quindi tutti devono rispettare le grandi novità delle costituzioni del secondo dopoguerra a differenza di quelle dell'ottocento dello statuto albertino nella storia italiana è che sono costituzioni rigide e dotate di un organo chiamato a vigilare sul rispetto della costituzione le corti costituzionali che non c'erano prima non c'erano prima e non ci sono in tanti paesi neanche adesso è vero però la funzione che in Italia svolge la corte costituzionale ormai è diffusa quasi ovunque magari non si chiamano corti costituzionali ma corti negli Stati Uniti c'è la suprema corte esattamente la suprema corte però per esempio in Israele dove non hanno una costituzione c'è la corte suprema suprema che fa un po' una costituzione vivente allora la situazione di Israele che poi è una terra particolarmente tormentata anche su questo fronte non solo perché siamo nello scenario di guerra che conosciamo è una una costituzione strana che un po' ereditando un po' la tradizione inglese ha una serie di leggi fondamentali non ha un unico testo costituzionale e si possono aggiungere queste leggi fondamentali in ogni caso la corte suprema è chiamata a garantire il rispetto di queste leggi fondamentali da parte del resto della legislazione da parte della Knesset sappiamo che in questi giorni la Knesset è il Parlamento è il Parlamento certo sappiamo che in questi giorni c'è stata una importante decisione della corte suprema pur in questo momento così drammatico per tutta quella regione perché il governo aveva appena modificato aveva approvato una parte della riforma della giustizia che avrebbe diminuito i poteri della corte suprema proprio nel suo compito di sorvegliare la ragionevolezza delle azioni del governo era una proposta di riforma della giustizia particolarmente contestata nell'autunno c'erano state le piazze piene 40 settimane è durata quella contestazione esatto la riforma fu approvata solo in parte prima del 7 ottobre e proprio il primo gennaio la corte suprema ha poi pronunciato la sua decisione che è stata una decisione di annullamento di quella riforma che avrebbe privato il paese di un presidio di quei valori costituzionali dell'indipendenza e dei poteri stessi della corte che sono considerati una parte integrante della democrazia quando noi diciamo nella nostra costituzione la sovranità appartiene al popolo nelle forme nei limiti dobbiamo pensare che la parola democrazia si è arricchita è sì l'espressione del popolo attraverso le elezioni il referendum e gli organi rappresentativi ma fanno parte di una democrazia costituzionale anche le corti costituzionali che garantiscono che tutti i poteri agiscano sempre nel quadro di quelle scelte fatte nel 1947 dai nostri padri costituenti professoressa lei può parlare liberamente è sciolta da vincoli istituzionali in questo momento sì è una libera cittadina se mi fa una domanda poi non posso rispondere glielo dirò ma non credo no perché mi veniva in mente che il capo del governo israeliano Netanyahu ha cercato spero in vano perché io sono molto vicino a Israele però le dico la verità quello che fa questo governo lo disapprovo totalmente compresa la condotta della guerra ma questo è un altro discorso e non ha importanza Netanyahu cercava di alterare a vantaggio del governo quello che oggi è un equilibrio che fa della corte chiamiamola corte suprema o costituzionale l'organo di equilibrio ora la mia idea e per questo le ho fatto la domanda prima la mia idea è che nella riforma del premierato così come è stata preparata c'è un po' lo stesso lo stesso la stessa trappola cioè si tenderebbe ad alterare gli equilibri che ci sono pesi e contrapesi tra presidenza della repubblica presidenza del consiglio e parlamento a favore del presidente del consiglio lei con i rischi connessi lei è d'accordo? Allora nella riforma del premierato non si tocca la corte costituzionale italiana e questo secondo me è una cosa molto importante perché quello che per Israele è la corte suprema quella stessa funzione da noi è svolta dalla corte costituzionale e non c'è traccia di una modifica in questo senso lo sottolineo ed è importante dirlo perché in molti paesi invece sta accadendo che proprio le corti costituzionali non è solo Israele siano catturate dalla politica un esempio? Beh l'Ungheria e la Polonia sono stati dei momenti molto i primi in Europa si è contenuta in questo momento c'è stato il cambio di governo in Polonia però è drammatico cambio di governo che adesso sta ovviamente creando delle nuove tensioni delle nuove necessità di assestamento però è una tendenza che si è un po' diffusa o diminuendo le competenze delle corti oppure alterandone la composizione in modo da diminuire l'imparzialità questo dibattito in Italia non c'è ed è bene che non ci sia perché la nostra corte costituzionale sta svolgendo una funzione molto importante ed è un'istituzione molto rispettata quello che lei diceva invece sul premierato un'alterazione dei poteri certo quando si tocca la forma di governo si dà maggiore potere a una delle istituzioni inevitabilmente se ne sacrificano altre io l'ho detto anche pubblicamente in Parlamento in un'audizione parlamentare a me pare che uno dei punti in cui si sacrifica un aspetto molto buono del nostro assetto costituzionale è il ruolo del Presidente della Repubblica esattamente nel senso nel senso che il Presidente della Repubblica da noi è un arbitro imparziale non entra nel gioco politico ma svolge due funzioni fondamentali che permettono di garantire la correttezza del gioco politico proprio come un arbitro deve fare i due poteri fondamentali sono la formazione del governo quindi l'incarico inevitabilmente la nomina dei ministri l'incarico la nomina del primo ministro la nomina dei ministri e poi in caso di crisi la valutazione se formare un nuovo governo oppure sciogliere le camere tutto questo verrebbe modificato nei disegni di riforma costituzionale attalmente all'esame del Parlamento togliendo irrigidendo diciamo così le ipotesi e le modalità di azione del Presidente della Repubblica a mio parere questo è un peccato perché avere una istituzione arbitrale che stempera i conflitti tra maggioranza e opposizione credo che sia particolarmente utile specialmente in un contesto come il nostro il nostro non solo italiano ma un po' di tutte le democrazie occidentali dove la polarizzazione tende a diventare un fattore che fa deperire la qualità del dialogo democratico è divisiva spesso violenta spesso arbitraria insomma ha ragione questo si vede questo è sotto i nostri occhi tutti i giorni attraverso le cronache di quanto accade lei una volta ha detto che fino a dieci anni fa non si doveva spiegare il valore di questo articolo 1 che abbiamo appena ricordato e che la dinamica politica oggi sfugge all'attenzione e al giudizio consapevole dei più ma sì perché quando diciamo così si spiegava la Costituzione e l'origine come avete fatto nella prima parte della trasmissione raccontando la storia la nostra Costituzione nasce in risposta a un'epoca che era l'epoca dei totalitarismi la nostra come tutte le Costituzioni nate nella seconda metà del ventesimo secolo e lì era chiaro che quello che era successo in Italia in Germania e in tanti altri paesi era il rispetto formale delle vie legali perché c'è stato una sostanziale investitura di Mussolini in Italia da parte del re il rispetto formale che però ha portato a uno snaturamento uno svuotamento a un regime contrario alla democrazia stessa allora in quel momento era chiaro che la democrazia come rispetto delle forme delle procedure democratiche non era sufficiente perché serviva appunto una Costituzione rigida è qualcuno che vigilasse sul rispetto di quei valori perché si può svuotare dall'interno un procedimento democratico anche rispettandone le forme e le modalità di azione mi ha interessato questa sua notazione è vero quell'investitura di Mussolini come presidente di formare un governo da parte di re Vittorio Emanuele III dopo la marcia sul Roma 28 ottobre 22 fu praticamente da parte del sovrano capo dello Stato un cedimento alla violenza però quello che gli storici si sono tante volte domandati è che cosa sarebbe accaduto se il re non avesse ceduto alla violenza avesse resistito forse le violenze sarebbero state anche peggiori ovviamente è un'ipotesi questo non lo si può dire ci sono tanti storici tanti anche politologi che si stanno domandando come muoiono le democrazie perché purtroppo le democrazie nascono si stabiliscono ma non vivono autonomamente vanno alimentate con una cultura democratica praticata e vissuta non soltanto predicata e una delle ragioni che vengono identificate proprio questo che fare di fronte al momento della crisi tentare di normalizzare chi sta minacciando la crisi inglobandolo nella procedura nell'assetto costituzionale vigente come appunto è stato fatto in Italia senza successo oppure creare un'opposizione con il rischio di una guerra civile o con il rischio di ricorrere alle armi questi sono dei momenti drammatici in cui evidentemente non ci sono delle risposte però l'evitare diciamo così di emarginare chi è un rischio per la democrazia può produrre quello che abbiamo visto nei nostri paesi europei nella prima parte del ventesimo secolo oggi si parla spesso di populismo allora populismo sovranismo ci chiarisce mi chiarisce e chiarisce a chi ascolta le idee su questo passaggio dalla democrazia al populismo non è non dovrebbe essere una cosa faccio una osservazione provocatoria non dovrebbe essere una cosa positiva beh certo da un certo punto di vista è proprio l'appeal il fascino che ha hanno le tendenze populistiche cioè il fatto di dire questa decisione si fa nel nome del popolo si agisce nel nome del popolo si vuole dare più voce al popolo perché è insidiosa la deriva populistica a mio parere perché non ci si fa una domanda ma quante sono le voci del popolo è un'unica la voce del popolo cioè quando si dice questa decisione la si vuole affidare al popolo ma il popolo è una pluralità di voci c'è la maggioranza ci sono tanti elementi della maggioranza soprattutto in un paese come l'Italia che ha tante espressioni politiche c'è l'opposizione e io vorrei attirare la sua attenzione dottor Augas su un aspetto che a mio parere è il più preoccupante della nostra vita democratica e della vita democratica di tanti paesi è l'astensionismo la disaffezione alla partecipazione popolare è cresciuta del 30% dal 1976 ad oggi nel 1976 avevano votato più del 93% degli italiani nell'ultima consultazione elettorale siamo sopra il 60% vuol dire che ci sono circa 17 milioni di persone che non votano perché? Per disaffezione perché non si riconoscono in nessuna delle parti perché vogliono segnalare un dissenso un disagio generale io credo che parlare dare voce al popolo significa anche ricreare una forma di attività politica che sia in grado di riattrarre soprattutto i giovani ma in ogni caso tutti coloro che non votano a quel momento importante che è la scelta del proprio governo perché dire dare voce al popolo nel momento della formazione del governo secondo me significa innanzitutto questo non so se lei ha visto e non voglio fare pubblicità in debita ma il film della Cortellesi secondo me è splendido da questo punto di vista quell'appuntamento elettorale quando votarono per la prima volta le donne parliamo del 1946 abbiamo ricordato prima col professor Canfora quello è vissuto è rappresentato con una finezza questa delia che va a questo appuntamento superando mille ostacoli come se fosse un appuntamento galante d'amore questo tipo di consapevolezza credo che sia tutta da riconquistare nel nostro sistema lei ha tolto per così dire le parole di bocca perché era esattamente quest'ultima parte del suo intervento quello che io volevo dire quando lei dice la legittimità di un governo che ha una maggioranza e la pluralità delle voci del popolo attenzione noi stiamo parlando di un fenomeno molto complesso perché un governo ha la maggioranza una maggioranza di una quasi minoranza non penso all'Italia penso agli Stati Uniti negli Stati Uniti l'elezione del Presidente della Repubblica in una Repubblica presidenziale quindi con un Presidente dotato di particolari poteri e forti vanno a votare circa la metà circa la metà vota per il vincente un po' più della metà dei votanti tal che ne risulta che il Presidente più potente del mondo diciamo è votato è eletto da un quarto dei suoi cittadini perché la metà non sono andati e la metà della metà hanno votato per quell'altro è una cosa spaventosa questa sì è una cosa spaventosa per cui a mio parere per questo io ho insistito sul fatto che a mio parere l'astensionismo è il maggiore problema delle nostre democrazie con il paradosso nel caso che lei sta raccontando che talora accade che in virtù di meccanismi elettorali dei votanti non sia nemmeno la maggioranza che finisce per esprimere il governo ma sia la minoranza per questo ad esempio nel disegno di legge costituzionale sul premierato c'è quella garanzia del 55% ai partiti che sostengono il premier eletto che sicuramente incontra dei problemi costituzionali gravi perché la corte costituzionale già lo ha detto anni fa questi premi di maggioranza non possono diventare di un livello tale da distorcere la rappresentazione della volontà popolare per cui fece cadere una legge elettorale proprio perché si attribuiva un premio garantito e sicuro indipendentemente da una soglia minima di voti raggiunti questo non può accadere anche questo l'ho detto io ma non solo io l'hanno segnalato in tanti penso che sia un punto molto critico sulla questione del premierato però mi permetta di dire una parola non dica mi permetta perché sposto leggermente diciamo il tono e l'asse del discorso la premessa da cui parte la proposta di questa riforma che è elencata nella relazione enunciata bene nella relazione introduttiva vuole affrontare un problema che è un problema serio per l'Italia che è quello della stabilità dei governi questo è vero che è un problema italiano mi permetta come dice lei di interrompere era già nella proposta Renzi del 2016 di dare maggiore solidità stabilità al governo perché quello è un problema vero è un problema un paese come il nostro che in 75 anni ha 68 governi evidentemente soffre di una debolezza della politica che può anche essere una delle cause della disaffezione popolare al voto soprattutto perché con un'instabilità dei governi di questa natura è difficile affrontare delle politiche di medio e lungo periodo mentre ci sono dei problemi gravi del nostro tempo i grandi temi delle transizioni che stiamo attraversando i grandi temi di una politica migratoria adeguata ai tempi delle politiche verso i giovani sono tutte tematiche che hanno bisogno di un orizzonte temporale cambiamento lungo ma quando un governo ha un'instabilità congenita difficilmente o ha la prospettiva di un appuntamento elettorale a breve inevitabilmente sceglierà delle tematiche delle priorità politiche che siano remunerative nell'immediato perché quelle a lungo periodo non danno molti frutti non pagano elettorale difatti da qui viene la frase che riassume questo in un detto popolare questi governanti non pensano alle prossime generazioni ma alle prossime elezioni e questo ovviamente ha ragione questo limita ma questo però ci porta a quella che è la legge elettorale questa legge elettorale attualmente in vigore è una legge elettorale fatta diciamo così con uno scopo preciso ma anche con una forte dose di incoscienza esagero no no è una legge elettorale che ha molti problemi è molto difficile poi modificare le leggi elettorali lei ricorderà bene che le leggi elettorali furono cambiate anche con l'uso del referendum proprio perché l'approvazione della legge elettorale comporta inevitabilmente una redistribuzione del potere e quindi soggetti che devono approvarla il Parlamento fatica diciamo così a rinunciare o a mettere in campo una legge elettorale che può avere a chi conviene però io vorrei anche a questo proposito sottolineare un aspetto che a mio parere la grande instabilità dei nostri governi derivano da una enorme e tradizionale frammentazione politica e da una difficoltà di gestire la leadership di governo verso una coesione io credo che l'aspetto più importante di cui abbiamo bisogno è una capacità di un'interpretazione del ruolo politico come capacità unificante innanzitutto dentro la maggioranza stessa ma di fronte a certe scelte anche con le opposizioni con il paese la costituzione italiana è stata approvata con una maggioranza amplissima e sicuramente l'abbiamo ricordato esatto tutti hanno dovuto rinunciare a qualcosa o accettare qualche aspetto della costituzione su cui non erano d'accordo le costituzioni si fanno insieme le costituzioni si possono modificare ma si devono modificare con un consenso ampio che superi quello della maggioranza di governo non conviene forzare la mano anche recentemente il Cile ha provato due volte a modificare la costituzione perché voleva liberarsi della costituzione approvata nell'epoca di Pinochet avendo forzato troppo la maggioranza due volte sono andati al referendum due volte è stata bocciata sa che le dico che anche Renzi è caduto in questa trappola io a suo tempo votai sì a quel referendum ma rendendomi conto che Renzi aveva esagerato lei non deve esprimersi se non vuole perché aveva messo troppa roba se lui si fosse limitato ad alcuni due o tre principi il referendum sarebbe passato infatti la nostra costituzione è stata modificata anche tante volte di recente sono stati ridotti il numero dei parlamentari è stato introdotto nell'articolo 941 la parola ambiente per dare un segnale importante dell'attenzione che si vuol dare a queste problematiche di nuovo lo sport eccetera però le modifiche puntuali e condivise sono modifiche costituzionali solide che possono anche migliorare la tenuta della casa comune come è stata definita la costituzione quando invece le modifiche tendono a riscrivere in modo troppo ampio il testo costituzionale e comunque esprimono un'opinione di una maggioranza risicata tendono poi a sgretolarsi o andare a infrangersi contro la volontà popolare molto spesso i referendum costituzionali sono stati respinti vorrei due ultime domande che il tempo ci consente una è questa lei ha disegnato in questa sua lucida esposizione ha disegnato un quadro anche di quello che è il potere e i contropoteri io vorrei ricordare quello che disse Montesquieu che scrisse Montesquieu nello spirito delle leggi che ricordo risale alla metà del settecento nel quale scrisse chiunque abbia potere è portato ad abusarne egli arriva sin dove non trova limiti perché per limitare il potere ci vuole un altro potere questo è sacrosanto nessuno io si potrebbero fare mille esempi nessuno che abbia un potere è disposto a cederlo ah va bene sì allora da domani no deve trovare una forza che gli si oppone che lo costringe alla rinuncia e al limite questa frase è all'origine del costituzionalismo moderno un'altra traduzione di quell'epoca di questo principio è stato l'articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino 1789 che è la base del costituzionalismo europeo e che dice ogni società in cui la separazione dei poteri e la garanzia dei diritti non è assicurata non ha costituzione quindi proprio in risposta a questa naturale tendenza ad abusare del potere ad oltrepassare il limite occorre che ci sia un freno quindi separare i poteri e i diritti garantiti poi con le corti costituzionali contemporanei come argini come guardrails su cui deve correre la vita della politica ma che debbono anche incontrare degli argini che li delimitino la costituzione nell'ultimo articolo che è il 139 mi correga se sbaglio pone un limite a ogni possibile cambiamento che è questo la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale cioè repubblica per sempre lei è d'accordo? lo dice la costituzione lo dicono le corti costituzionali di tutto il mondo ci sono delle modifiche costituzionali che se approvate sarebbero incostituzionali un paradosso il cosiddetto paradosso delle riforme costituzionali incostituzionali ma non è solo italiana questa esigenza le costituzioni si possono modificare non è un problema perché anzi prevedono a se stesse il procedimento per modificarle prima del 139 c'è l'articolo 138 che descrive il procedimento ma quando le modifiche toccano dei pilastri portanti e snaturano la democrazia l'ordine costituzionale stesse queste sono contrarie alla costituzione quindi andrebbero fermate anche dalle corti costituzionali lo ha detto la nostra corte sin dal 1988 perché tornando e qui chiudo al paragone della costituzione come casa comune come ogni casa va modificata va mantenuta va ritoccata restaurata ma se abbattiamo un pilastro portante una colonna portante la casa implode la casa viene giù grazie professoressa io adesso vado un momento lì a quelleggio leggo una frase che per sono felice combinazione una frase di Calamandrei che riassume un po' molte alcune delle cose che lei ha detto poi torno qua e ci salutiamo la frase di Calamandrei che accennavo alla professoressa Cartabi è questa sentite come veramente riassume un po' il senso di questa nostra serata e di questa doppia conversazione con due insigni professori la costituzione disse Calamandrei non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé la costituzione è un pezzo di carta la lascio cadere non si muove perché si muova bisogna che ogni giorno ci si rimetta dentro l'impegno lo spirito la volontà di mantenere queste promesse bisogna che ognuno ci metta la propria responsabilità frase dura bella tremenda perché la domanda che pone è ne saremo ancora capaci noi di metterci dentro la responsabilità di ogni cittadino di questo paese alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti.